Tu cosa volevi prima di Miami? Volevo solo evadere dalla mia vita. Ti piace fare il barman? Non è quello che faccio davvero. Cosa fai davvero? E quando sei arrivato, mi hai dato questo inaspettato momento magico che mi ha fatto ricordare chi fossi veramente. Vieni con me a Londra. Andiamo. Perché sei a Londra? Allestirò uno spettacolo in un famoso teatro. Le persone sono intorpedite. E sconnesse le risveglieremo con un'ondata di passione senza precedenti. Cavolo, sì. Senza altri indugi, vi presento il visionario artista Magic Mike. Come va? La vera domanda è perché tu la ami? Nessuno ha mai creduto in me come tua madre. Di che parla lo spettacolo? È il solito vecchio, se sposerà per amore o per soldi? Allora cosa scegli, amore o soldi? La vera domanda è perché lei sente di dover scegliere. A me sembra solo che abbia bisogno di lasciarsi andare. E di un bello... Magari anche di quello. Non me farai chiudere, non questa volta! Tu sei stata così brava. Non permetterò che ci arrendiamo. Voglio che ogni donna che entra in questo teatro senta che una donna può avere ciò che vuole quando vuole. Aspetta, ti conosco. Eri un poliziotto, no? L'hai arrestata? Come si chiama? Kim! Dalla fine ti ho lasciato andare, no?